signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale ed è oramai da maggio che andiamo avanti a parlare di xcroll e di sandbox anche se abbiamo fatto delle pause come quella del mega dungeon adesso diciamo però che oramai è arrivato il momento di cominciare a tirare le somme e chiudere il discorso sì lo so il master kai che effettivamente chiude un argomento dove andremo a finire signora mia per cui questa settimana la prossima e anche qualcosa al mese prossimo probabilmente vedremo di fare gli ultimi video e cominciamo proprio da questa settimana andando a parlare di qualcosa che almeno apparentemente va a contraddire tutto quello che abbiamo detto finora per quanto riguarda il sandbox il titolo del video l'avete visto questa settimana andiamo a parlare di cosa succede quando la griglia diventa invisibile finora quando abbiamo parlato di sandbox e soprattutto di xcroll abbiamo sempre dato scontato che ci fosse una mappa divisa in esagoni il territorio in cui si svolge la quest viene diviso da una griglia regolare di esagoni ognuno dei quali contiene degli elementi che i personaggi troveranno man mano che esplorano la mappa o almeno questo è il più classico modello dell'excroll potenzialmente le divisioni della mappa potrebbero non essere regolari e la mappa potrebbe semplicemente essere divisa in zone ognuna delle quali ha un suo tema o una sua morfologia particolare questo è il caso dello zone crawl o potenzialmente nel point crawl non ci sono vere e proprie divisioni del territorio ma la mappa riporta semplicemente i punti di interesse particolare per la campagna e le rotte che collegano un punto con l'altro di tutto questo abbiamo parlato in abbondanza in video precedenti non sto a ripetere adesso però per ora abbiamo sempre dato per scontato che tutta questa struttura sia conosciuta dai giocatori e che il master abbia presentato loro proprio le regole che gestiscono la mappa e la sua esplorazione insieme alle regole che governano tutto il resto del gioco i giocatori sapevano quando iniziasse una casella ne finisse un'altra quali fossero le dimensioni dell'esagoni quanto tempo ci volesse attraversarli anche quale tipo di terreno avrebbe accelerato rallentato il loro movimento anche su questo abbiamo fatto un video specifico ve lo lascio qui in alto se dovete andarlo a recuperare il fatto però che si sia dato per scontato che i giocatori sappiano tutte queste informazioni non vuol dire che questo sia l'unico modo per gentire un sandbox o che necessariamente sia il migliore dopo tutto se ci pensate un attimo anche nel caso i giocatori siano coscienti dell'esistenza della griglia la maggior parte delle informazioni che la riguardano comunque non sono a loro portata i giocatori possono essere coscienti delle regole che governano il loro movimento sulla mappa ma probabilmente non sanno quali sono i terreni che andranno a ostacolare questo movimento finché non ci arriveranno o arriveranno in una casella da cui quel terreno è visibile e al di tutto quello di cui sicuramente non saranno coscienti sarà il contenuto delle varie celle dopo tutto lo scopo dell'excro è quello di fare esplorare la mappa ai giocatori quindi è ovvio che la maggior parte delle informazioni che riguardano la mappa non gli vengano date proprio per spingerli ad andarsela a trovare da soli va da sé che dato che i giocatori agiscono su informazioni incomplete tutto quello che riguarda il movimento meccanico sulla mappa sarà comunque supervisionato se non direttamente gestito proprio dal master che è l'unico che avendo la visione di insieme può effettivamente calcolare quale sia il reale tempo di movimento e quale siano effettivamente le situazioni che i giocatori andranno incontrare sul loro percorso a questo punto però quindi perché non liberare semplicemente i giocatori dalle incombenze della griglia e presentare loro una mappa che non abbia alcuna suddivisione mentre il master si tiene una mappa che effettivamente alla griglia e invece di chiedere ai giocatori di descrivere i loro movimenti in base alla griglia stessa in base alle regole che ha presentato per il movimento sulla mappa semplicemente chiedere ai giocatori che cosa vogliono fare e poi sarà il master stesso a tradurre quello che i giocatori hanno dichiarato in regole e tracciare il loro movimento sulla mappa geometrica che lui possiede ammetto che effettivamente inizialmente una cosa del genere potrebbe sembrare strana però se vi fermate un attimo a riflettere molto probabilmente voi già usate un sistema molto simile perché in realtà non è diverso dal classico sistema di gestione di un dungeon quando il vostro party entra in un dungeon voi non fornite loro una mappa totale del dungeon né una lista di tempi per di percorrenza descrivete loro la stanza dove inizia il dungeon quali sono le possibili porte da cui si esce da quella stanza e poi man mano che il party procede voi calcolate quanto tempo ci mettono ad attraversare un corridoio dove quel corridoio li porta e descrivete poi loro l'area in cui arrivano all'interno della fiction dell'avventura il dungeon sarà un labirinto un castello una grotta o quello che è ma a livello meccanico la gestione della sua esplorazione non è diversa da quella di un banalissimo point crawl le stanze sono i punti di interesse e i corridoi sono le rotte che le collegano l'una con l'altra che il master le descriva come angusti passaggi o corridoi illuminati tetramente da torce pieni di trappole è semplicemente una questione di illusionismo per aumentare la suspense e la godibilità dell'avventura per i giocatori di cosa sia l'illusionismo ne abbiamo già parlato vi lascio qua in alto il link ai giocatori però non viene fornita alcuna regola su come si esplora un dungeon gli viene semplicemente detto che quello è il dungeon e che loro dovranno andare a esplorarlo e poi vengono lasciati liberi di fare le scelte che preferiscono questo sicuramente porta anche dei vantaggi al party stesso parlando appunto illusionismo non avere una griglia dettagliata o non vedere la struttura geometrica della mappa assicura che i giocatori abbiano una maggiore immedesimazione nei loro personaggi aumenta anche la verosimiglianza delle loro scelte i personaggi all'interno del mondo di gioco non hanno in mano una mappa divisa in esagoni o divisa in zone hanno una mappa che riporta probabilmente le caratteristiche del territorio non è detto quindi che i giocatori non debbono averne una diversa in pratica avranno in mano la stessa mappa che hanno in mano i loro personaggi e quindi questo dovrebbe spingerli a fare ragionamenti molto più simili a quelli che effettivamente i personaggi farebbero all'interno del mondo di gioco fittizio i giocatori sapranno che c'è una strada che collega il posto a con il posto b e che magari lungo quella strada c'è la possibilità di fare degli incontri pericolosi ma non sapranno che la strada è lunga tre caselle quindi dovranno tirare tre volte una possibilità del 40 per cento di fare un incontro con dei banditi questo tra l'altro porta anche dei vantaggi per il master lasciandogli un po più di libertà d'azione perché magari non c'è una struttura geometrica visibile ai giocatori il master però ne avrà una ma dato che i giocatori non sanno che c'è il master potrebbe anche decidere di ignorarla se questo potrebbe portare dei miglioramenti alla quest nel mondo reale i confini tra una zona e l'altra sono più sfumati non esistono foreste che iniziano al chilometro 3 finiscono al chilometro 5 poi dal chilometro 5 al chilometro 7 sono solo platerie e gli edifici non si trovano a multipli di un quadretto di distanza gli uni dagli altri il master potrebbe quindi spostare le cose ignorare la griglia se questo aumenta la verosimiglianza o anche solo per aiutarsi a gestire i tempi di quest potrebbe decidere di far arrivare un incontro casuale anche se i giocatori non hanno ancora abbandonato quella casella perché vede che i giocatori si stanno annoiando o al contrario potrebbe eliminare degli incontri perché vede che i giocatori si sono focalizzati su qualcosa e vuole che ci arrivino a portarla a termine il prima possibile e quindi anche se i giocatori magari si sarebbero spostati in un'altra casella ignora questo fatto ignora i tempi di percorrenza e tutti gli incontri casuali e l'esplorazione per dare ai giocatori più velocemente quello che vogliono fate però attenzione al fatto che per quanto questo effettivamente possa portare dei vantaggi non è sicuramente un metodo che non abbia svantaggi anzi si porta dietro alcune criticità molto pesanti la prima è più importante che toglie un sacco di agency ai giocatori ora senza stare a perdere tempo adesso a spiegare cos'è l'agency è un concetto molto complesso però diciamo che toglie le scelte che i giocatori faranno saranno molto meno significative e rilevanti per la quest se con una griglia visibile i giocatori possono farsi i loro calcoli prendere le loro scelte e magari anche assumersi dei rischi scegliendo di fare un percorso che magari sia più pericoloso ma più rapido o comunque un percorso non ottimale per dei motivi che loro ritengono importanti se la griglia gli viene tolta le loro scelte saranno fatte in base al loro sentimento o in base a quello che più o meno loro ritengono ma nella pratica saranno in balia di quali saranno i ragionamenti e le decisioni del master e dando poi scontato che il master sia assolutamente imparziale e si limiti a tradurre in meccanica tutto quello che hanno detto i giocatori nel caso le scelte dei giocatori non siano le scelte migliori quando il master poi li metterà di fronte alle conseguenze magari negative per loro scelte i giocatori non avranno la percezione che sia effettivamente una conseguenza delle loro azioni hanno voluto rischiare hanno perso ma si sentiranno semplicemente puniti dal master per aver dichiarato una strada che non è quella che il master voleva altra criticità è che il master in questo caso va di fatto a togliere dai giocatori delle competenze per trasferirle a se stesso ora magari qualcuno che è interessato puramente la versione narrativa puramente la gestione del personaggio potrebbe anche apprezzare il fatto di non dover stare a gestire anche le regole del movimento sulla mappa ma di fatto questo vuol dire che il master ha tolto una parte del gioco ai giocatori per giocarsela da solo e effettivamente molta gente prova gratificazione si diverte a progettare una rotta sulla mappa calcolare spostamenti calcolare quale sia il percorso ottimale per esplorare una zona quindi il master gli fondamentalmente toglie il gioco dalle mani per non dargli nient'altro in cambio nella pratica quello che dovrebbe essere la parte cardine dell'esplorazione cioè la libertà di movimento per i giocatori diventa semplicemente la normale introduzione in una nuova scena i giocatori dicono che vanno a est e il master dice a est trovate quello che è non sarebbe diverso da apro quella porta dietro la porta ci sono due orchi in ultimo considerate che il master comunque aggiunge più lavoro a se stesso e non è necessariamente qualcosa in negativo ma sarebbe preferibile che il master usasse il suo tempo per concentrarsi su qualcosa che i giocatori non possono fare da soli a livello personale vi consiglio di valutare molto attentamente se e quando togliere la griglia ai giocatori io personalmente quando gioco in un sandbox preferisco vederla però diciamo questa è la mia opinione personale quindi lascia molto il tempo che trova probabilmente la cosa migliore da fare è eliminarla quando l'esplorazione riguarda semplicemente un momento più ristretto contenuto di una campagna più grande magari un singolo arco o magari anche proprio una singola quest i giocatori sono una ciuma di pirati che gira per i sette mari ma in questa quest nello specifico devono esplorare l'isola per trovare il tesoro per il master viene comodo gestire a livello meccanico l'isola dividendola in zone in esagoni e tracciare così i movimenti del party mentre la esplora però non vuole dare un intero nuovo sottosistema di regola ai giocatori da impararsi che magari useranno per 5 o 6 sessioni un mese e poi non verrà mai più introdotto durante la campagna quindi lui si limita a presentare ai giocatori l'isola semplicemente come una mappa chiedendogli loro dove devono andare e poi da dietro lo schermo traduce le dichiarazioni dei giocatori nel sistema meccanico di esplorazione detto questo però la parola sta a voi ditemi voi se rendete invisibile la griglia per i vostri giocatori e se questo migliora o peggiora la loro esperienza o se non lo avete mai fatto perché non lo avete mai fatto scrivete tutto nei commenti qui sotto insieme a eventuali vari domande dubbi perplessità se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che è dovuta crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al server di disco dal gruppo di telegram dove metto io le notifiche manualmente e dove si riunisce anche il resto della community del canale come sempre io sono il master cae e noi ci vediamo nel prossimo video